Queste nuove edizioni di corso vedono la maggior parte delle ore in aula dedicate ad un'esercitazione sulla progettazione di un evento. Un'esercitazione, e questa è la cosa più importante, che potrà essere continuata durante il periodo di stage che è garantito per tutti. Ed è uno stage che coordineremo e seguiremo direttamente noi professionisti del settore, docenti di Accademia degli Uniti. Siamo qui alla Accademia degli Eventi, all'ultimo giorno di corso. Oggi stiamo mettendo in pratica tutto quello che abbiamo imparato, provando ad organizzare un evento che verrà sicuramente molto bene perché siamo una grande squadra e vediamo di valorizzare delle aziende giovani che crederanno in noi e in noi che creiamo. Nel nostro caso stiamo preparando una sorta di open day da svolgere presso un'azienda ricola specializzata in prodotti biologici e il nostro obiettivo economico sarà quello di valorizzare l'azienda e quindi aumentare la fermaggine e vendite, ma dal punto di vista valoriale invece cerchiamo di rivalorizzare il casertano non solo come terra dei fuochi e poi anche avvicinare i giovani all'agricoltura e quindi all'amore per la terra. Siamo qui al termine del corso Event Manager Wedding Planner e insieme al mio gruppo stiamo mettendo a punto un progetto che proporremo ad una realtà locale, un progetto che accanto al valore e all'obiettivo commerciale presenta anche un ideitario obiettivo valoriale che è quello di incentivare la lettura, quale strumento di libertà di pensiero ma anche di socializzazione. C'è un grande posto che mi ha accettato perché togliamo molto in questo progetto. Siamo all'Accademia degli Eventi dell'ultima giornata di corso, abbiamo creato due gruppi di lavoro e stiamo lavorando a due progetti. L'ambiente è veramente molto stimolante, nelle prime due giornate abbiamo ricevuto tutti gli strumenti necessari per poter ideare e realizzare un evento e appunto con questo gruppo di lavoro lo stiamo ideando e lo stiamo buttando giù per fare in modo per vendarmi meglio. L'esperienza è veramente divertente e utile e devo dire che secondo me verrà veramente un bel evento. Siamo convinte che riusciremo a creare qualcosa di molto bello. A capire degli eventi, il bar sa per fare! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!